Avere tutto l'arco della giornata, ma che avete problemi a comunicare con il resto del mondo, voi volete l'avere, poco male, volete del tonno, poco male, volete soffia, è un po' diverso. Avere tutto l'arco della giornata, ma che avete problemi a comunicare con il resto del mondo, voi e culo, ma convettiva papà, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva fornato e affeginando ma genaro. Avere tutto l'arco della giornata, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva. E' un po' diverso, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva papà, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva fornato e affeginando ma genaro, vuoi e culo, ma convettiva mamma, giro voi e culo, ma convettiva ragazza, è un po' diverso. Un saluto ai nostri degni gruppi spalla! Un moose murder schooling è un tale che mi piace, però chiaramente sono meglio io, vogliate scusare.